Oramai è diventata un appuntamento fisso nel panorama podistico regionale e nazionale la notturna città di Chieti che quest'anno taglia il traguardo della 23esima edizione ad organizzare sempre l'ACLI Marathon Chieti sentiamo il presidente Pietro Perrucci il quale spiega la nuova intitolazione della corsa Avevo già un'idea di intitolarla all'avvocato Paolo Giammichel e il figlio Marco ha consentito veramente di cuore quindi faremo la 23esima edizione notturna città di Chieti dedicata all'avvocato Paolo Giammichel La manifestazione avrà come quartiere generale la villa comunale e si svolgerà sulle strade del centro storico su un circuito collaudato 4 giri da 2,4 km per un totale di 9 sei In coda alla gara competitiva ci sarà la passeggiata della salute che noi la ideiamo tramite un nostro associato e quindi ritrovo alle 17, 18 inizieranno le gare giovanili 19, 30 la competitiva I trofei sono stati offerti dal crad dell'università e con piacere verranno consegnati ai vincitori dal neo rettore professor Stupia Oltre alla quantità ci sarà la qualità? Sì, quella non mancherà perché hanno chiamato diversi atleti di livello nazionale e poi sarà il nostro ospite come sempre il nostro olimpionico Alberico di Cecco Speriamo non di arrivare agli 800 degli anni d'oro però di superare tranquillamente i 400 già abbiamo superato i 300 iscritti attualmente Speriamo non di arrivare agli 100 iscritti attualmente